E' stata protocollata nella giornata di ieri una interrogazione urgente a risposta scritta da parte del capogruppo di opposizione del comune di Castellabate Alessandro Lo Schiavo, mirante ad acquisire informazioni in merito al procedimento intervento finalizzato alla protezione del litorale di Castellabate dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi. Rimanendo in tema di mare, scrive il consigliere Lo Schiavo, in continuità con quanto già avvenuto per il porto parliamo di un'altra opera pubblica incompiuta, dagli evidenti effetti collaterali, gli interventi per la mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e dei rischi ad essa connessi nel litorale del comune di Castellabate. Un intervento questo che avrebbe dovuto proteggere il nostro litorale, ma allo stato attuale è riuscito in buona parte a cancellare una delle spiagge più belle del nostro territorio, Marina Piccola, ad insabbiare l'approdo delle gate, a mettere in seria difficoltà le attività turistiche, privando residenti e non di un pezzo di spiaggia libera, meta privilegiata di tantissimi vacanzieri, annullando eventi sportivi e spettacoli, con il mare che di tanto in tanto fa capolinea dinanzi al santuario di Santa Maria Mare. Da qui la mia interrogazione, sottolinea Lo Schiavo, per conoscere lo stato dell'arte e i provvedimenti che verranno adottati per tentare di rimediare ad un'opera, progettata dall'autorità di Bacino Regionale Sinistra Sire, fallimentare fino a questo punto. Da Palazzo di Città però sono arrivate subito le precisazioni del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Il lavoro ha avuto un fermo per risoluzione contrattuale con l'impresa giudicatrice che è stata citata per danni. Di recente, sottolinea la Maiuri, ed anche stamattina abbiamo tenuto un incontro presso l'autorità distrettuale Appennino Meridionale di Caserta per concordare le successive fasi di affidamento del contratto. In esito a tali incontri è stata interpellata la seconda impresa classificata nella procedura di gara a suo tempo espletata. Nei giorni scorsi tale impresa ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori per il completamento dell'intervento. L'ufficio, conclude la Maiuri, sta espletando tutte le procedure per il nuovo affidamento dei lavori che auspichiamo possano riprendere nel prossimo mese di giugno.